Si sarà con voi in mare. Abbiamo Mauro Peracchini, mette sicuramente un applauso, grazie. Simone Ferrarese, il più giovane del gruppo, un altro applauso anche per lui. La nostra franciulla, Petra Glimba. Poi abbiamo uno staff molto numeroso, oltre a questi timonieri, saranno loro che timoneranno le imbarcazioni. Abbiamo il Presidente del Comitato di Legata, il Professor Paolo Capparena. Abbiamo poi il nostro Principal Reef Office, Luigi Monaco. Guardi internazionali, Emanuele Belgrano. Abbiamo un altro pezzo forte, l'unile. Eccolo. Difficibile di far vedere. Insomma, poi avremo anche tutto lo staff che ci sta dando assistenza qui, il Marina 4, e sono sempre pronti e vigili a darci un grosso supporto. Quindi avete visto che alla fine siamo forse in equal numero tra staff e ospiti, quindi insomma una grande organizzazione. Detto ciò, noi vi chiediamo innanzitutto l'autorizzazione a darci del tour. Questo perché imbarca, non so se avete mai avuto modo di fare qualche navigazione, o meglio qualche regatina, darsi del lei per i comandi non è proprio conveniente, non è proprio utile. Quindi se siete d'accordo, da questo momento iniziamo a darci del tour. Possiamo? È come. Perfetto. Detto ciò, dobbiamo formare questo punto di equipaggi. Quindi dobbiamo passare.